Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 La musica è la vita! This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin! Allora siamo pronti per il prossimo talento Paolo Roberto? Lei è qui, è schierata sul palco Lei è, mi perdoni se prima ho detto solo il cognome Lei è Francesca Ferrato Ci canterà un brano inedito Il brano si chiama Per te Noi la presentiamo come un talento della notte romana Lei è Francesca Ferrato Radio By Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana Per te è lei Francesca Ferrato È un brano inedito ovviamente Ma che importa Ma che ti importa se Il tempo passa E per me sai come un giorno Che fretta c'è Ma che fretta di crescere Che male c'è Ad assaporare È per te che soffia il vento È per te il mio turbamento È per te la mia ragione La mia forza è una canzone Era lei Francesca Ferrato Il brano era il brano inedito Per te Complimenti Francesca Se sei seguita anche tu nel palco del Piper Vogliamo sapere se mai ecco abbiamo qui Il nostro È già andata lei È già andata via È scappata È un'emozione Non se lo voleva godere È andata via È andata via Speriamo che comunque Francesca vieni qua No su Infatti si stanno preparando i prossimi Ebbene sì Ebbene sì Il prossimo sarà lui Il talento col cappellino Ecco adesso lo presentiamo Francesca com'è andata? Benissimo Senti questa canzone Insomma quando Perché mi sono sempre immaginato Come si Come viene Come si ispira Come ti sei ispirata Allora questa canzone È dedicata ai miei figli Innanzitutto Io non suonando purtroppo Uno strumento Parte da me Prima la melodia E poi parte il testo Vocalmente Bene Quanto hai messo? Cioè tutto di getto Hai scritto? Sì Per questo pezzo sì Radio Radio Bi-Night Roma 104.5 È che finanza Abbiamo Betto Bombe le